Torna a tremare l'Etna, nel territorio del piccolo comune di Milo. La scossa di magnitudo 3.1 è stata registrata 47 minuti dopo la mezzanotte dai sismografi dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma ha avuto un epicentro a 12 chilometri di profondità ed epicentro a 11 chilometri ad ovest di Milo. Fortunatamente non si registrano danni a persone. Il 6 ottobre scorso, un'altra scossa di magnitudo 4.6 aveva svegliato nel cuore della notte la provincia di Catania, in particolare i comuni di Santa Maria di Licodia, Biancavilla e Adrano. Continua la scia sismica in Sicilia, che ha fatto registrare una nuova scossa di terremoto di magnitudo 2.4 a 3 chilometri da Roccella-Valdemone, in provincia di Messina, con ipocentro a 10 chilometri di profondità.